La scuola italiana incontra il Papa. È la prima volta che un pontifice invita al dialogo l'intero mondo dell'istruzione del nostro paese. E la Chiesa italiana chiama tutti gli istituti di ogni ordine e grado a confrontarsi con Papa Francesco. È la Chiesa italiana che chiama tutta la scuola, e non soltanto quella paritaria, chiama tutta la scuola ad ascoltare la parola autorevole, entusiasmante e trascinante anche di Papa Francesco. Siamo tutti quanti contenti quando lui parla, perché non ascoltarlo anche su questo tema dell'educazione, che ripeto non riguarda l'educazione fatta nella e dalla scuola paritaria, cattolica o altro che sia, ma fatta dalla scuola. C'è una scuola che deve recuperare il suo ruolo veramente di educatrice, di educatrice alla libertà e al senso critico. Per coordinare l'appuntamento del prossimo 10 maggio, che si preannuncia storico, si è tenuto a Roma un incontro tra i responsabili della pastorale scolastica, familiare e dell'insegnamento religioso. Ormai non esiste più la possibilità di affrontare dei temi come quello della scuola o come quello dell'educazione in maniera parcellizzata. C'è ognuno che cerca di fare quello che può e quando può e come può. Ormai o veramente, o per fortuna meglio, o ci mettiamo insieme o creiamo sinergie, oppure i nostri sforzi vanno tutti quanti in direzioni, ahimè, contrapposte. Quindi finiscono col fare il gioco del nemico, e cioè il gioco del nulla, il gioco delle ideologie, il gioco della non formazione, il gioco della non educazione.